Allora, continuiamo con il dottore Federico che è qui accanto a me, campionato di serie D, dottore, grandi difficoltà purtroppo tra le nostre e le calabrese, io in genere quando parlo di questo campionato a nuovo rirrende come, non come struttura di squadra, ma come struttura societaria, comuna delle squadre che potrebbe rimanere là in alto tra playoff, insomma per cercare anche di disputarli questi playoff e magari sulla vittoria finale non è sempre un ternallotto, però la società infatti volevo chiedere al direttore, poi avete chiuso, volevo chiedere quali sono i programmi, perché è una società che da anni, da sempre, insomma ha fatto anche la serie C, si trova là con il Cosenza vicino, mantenere questa struttura, questo tipo anche di squadra, dove vogliono arrivare, quello che vogliono fare, è chiaro che ognuno si cela a lungo termine, perché parlava già di campionato di transizione, Esatto, quindi poi non ho fatto la domanda perché mi ha anticipato le nostre, vede, annaspano, cioè c'è questo problema a livello di bassi fondi della classifica, però è chiaro che debbono fare i conti, non solo con mille difficoltà, però anche con un bilancio che lascia il tempo che trova, perché giustamente gestire una società di serie D non è una cosa semplice con i tempi che corro, e quindi la Palmese oggi è anche, insomma, pensavo non facesse un risultato diverso oggi la Palmese. Vabbè, magari è una parentesi come è capitata per il Rende, poi può tranquillamente riprendersela a te. Oggi ho visto, posso dirlo anche, ho vinto una scommessa con Gesualdo Albanese, che in genere ci diciamo i risultati. Fate i pronostici. I pronostici, gli ho detto che il Locri non avrebbe, cioè che il Siderio non avrebbe perso, e che il Locri non avrebbe vinto, e che il Rocella avrebbe vinto a Sarno, perché già. E quindi ho vinto la scommessa e ho vinto una cena, che lui si appresterà sicuramente a pagare in questi giorni. Passe di pesce, avete stabilito? Ma scegli lui, scegli lui, va bene. Vabbè, staremo a vedere, insomma, soprattutto Sersara e Castrovillari, se daranno segnali positivi da qui in avanti. Rocella oggi ha dato un bel colpo, diciamo, vincendo in casa della Sarnese. Era una sorta di scontro diretto che è stato vinto, no? Sono le gare che non devi sbagliare. Non deve sbagliare, quindi in un certo senso il Rocella, almeno poi da quello, previsioni, l'ha giocato con più serenità rispetto alla Sarnese. Perché la Sarnese non doveva farsi raggiungere, mentre il Rocella, essendo fuori casa, avendo trovato il gol, sicuramente... Non aveva nulla da perdere. Nulla da perdere. Andiamo al campionato di eccellenza, dottore. Oggi lei ha seguito il derby, chiaramente. Il derby. Perché doveva vedere, insomma, sta scommesso se andava a buon fine oppure no. È andato a buon fine. Guarda, è stato come pronostico... Tanto pregherei la redazione di fermarsi con le telefonate. Tra poco continueremo e parliamo prima di Locri-Siderno. È stato come pronostico un derby, come si era previsto. Cioè il Locri ha fatto la partita, nonostante tutto, il Siderno, in attesa perché gli poteva bastare anche il pareggio. Si è difeso bene il Siderno, hanno avuto entrambe la prima occasione buona, l'ha avuta il Siderno con un diagonale di Savasta, che è dato di poco a lato, però ha risposto bene anche il Locri con due azioni molto... Una, specialmente la seconda, ben articolata tra Giervasi e Papaleo, quale ha aperto su numero 7, che mi sembra che era Renile, è stato chiuso bene dal portiere Macri. Diciamo che poi ha preso le retini il Locri a fine primo tempo e quasi tutto il secondo tempo. Il risultato è legittimato, lo 0-0, anche perché sul finire De Leo ha avuto la palla dell'1-0 e ha preso la traversa. Ha avuto coraggio perché qualsiasi giocatore, qualsiasi calciatore a 3-4 metri dalla porta tira la botta. Lui ha cercato di superare il portiere con un pallonetto e è stato sfortunato perché ha preso la bata. E sì, appunto, proprio per questo è troppo vicino alla porta. Insomma, ha fatto un bel numero, purtroppo è stato sfortunato. Direi che il pareggio è giusto, la partita è stata molto, molto equilibrata anche da un punto di vista comportamentale. Quindi non ci sono state azioni, diciamo, degne di cartellino pesante. Dottore, leggo questo commento. Ho visto la partita e il Siderano ha buttato via tre punti. Il mio amico De Leo si è mangiato un gol incredibile. Ebbene, cioè, l'ha mangiato. Ha avuto il coraggio, io non so, ma ha avuto quello che stavo dicendo, ha avuto il coraggio di tirare in quel modo. Qualsiasi giocatore in quelle condizioni là avrebbe dato la botta. Però, secondo me, ha calcolato che avrebbe preso il portiere che gli era in uscita. Per me è un'azione bella da vedere e purtroppo è stato sfortunato. D'altronde non meritava neanche il Siderano, alla luce di come sono andate le cose, vincere come non lo meritava a questo punto qua neanche il Locri. Perché non hanno avuto delle azioni più che altro a centro campo. Però poi alla fine, secondo me, il pareggio è giusto. Devo fare i complimenti a, questa volta, a Mandarano. Non so, Mandarano, il numero sei. Non so se è Mandarano. 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 Mandarano che ha fatto una partita eccezionale, a mio modesto avviso. Perché è spostato. Non so perché il mister la face, forse per problemi di fuoricuoto o altro, lo ha messo sempre sulla fascia. Oggi è giocato a centro campo e ha retto il centro campo in un modo meraviglioso. Però Figlio Mene ha avuto qualche uomo in più oggi che rientrava, giusto? No, perché chi gli rientrava? Gli rientrava solo il centro avanti. Però sostanzialmente ha avuto più o meno, perché se tu gli entri il centro avanti, gli esce Fabio. Diciamo che Figlio Mene non ha, io torno a ripetere, quel ragazzo la pipicella, non l'ha avuto. Infatti ha peccato molto sulle fasce, ha sofferto molto su una fascia, il sederno, per questo. Avendo avuto un pipicella in più, magari le situazioni potevano cambiare. Però diciamo che sostanzialmente è stato bello, una grossa cornice di pubblico, la tribuna coperta era piena, non era solo di... Forse la gara non ha dato tanto spettacolo. Doveva dare molto di più per le persone che c'erano.